Luca Zerba Pagella, Presidente di Federfarma, oggi per illustrare un'iniziativa a favore della popolazione ucraina. Di che cosa si tratta? Si tratta di un'iniziativa che nasce dall'esperienza delle farmacie alessandrine nel campo della solidarietà. Grazie all'azione di promozione del distretto 2032 del Rotary abbiamo messo assieme queste reti che da anni si occupano della raccolta per i farmaci, per i bisognosi, per gli enti caritatevoli della nostra provincia e abbiamo messo assieme queste reti per venire incontro a questa nuova emergenza che è l'emergenza umanitaria della guerra. Di fatto io acquirente vado in farmacia e posso comprare farmaci che vengono ritirati dalla Croce Rossa, giusto? Farmaci senza obbligo di prescrizione che verranno ritirati dai vari mandamenti della Croce Rossa locale oppure prodotti per la medicazione, prodotti per articoli sanitari in genere. Le farmacie rinunciano al loro guadagno donando almeno il 30% del ricavato al conto corrente del Banco Farmaceutico Nazionale che si occuperà invece dell'acquisto tramite i suoi canali consolidati presso l'industria farmaceutica di farmaci etici che verranno consegnati all'Ucraina.